Se il tuo ragazzo fa questo, forse non è poi innamorato di te. Ascoltami, prima che ti dico che cos'è che fa e che dimostra che non ti ama, devi valutare sempre gli atteggiamenti di una persona, non dovresti valutare le parole. Siamo tutti bravi a parole, specialmente quando stiamo leggendo la Bibbia e il Vangelo, siamo tutti quanti bravi con le parole. Ma veniamo al dunque. Il primo motivo. Se ti sminuisce, beh, allora significa che non ti ama. Le persone che ami tendi a portarle e a metterle sul piedistallo almeno davanti agli altri. Sminuirti in privato è una cosa, ma sminuirti in generale o ripetutamente è tutta un'altra storia. La seconda cosa è che è un millantatore, un menzogniere, insomma un bugiardo. Se il tuo ragazzo mente costantemente, non c'è molto che tu possa fare ed è probabile che possa mentire in quasi tutti gli ambiti della vostra relazione. Il terzo punto importantissimo è quando lui non ti presenta agli amici, né al cerchio sociale e nient'altro. Insomma, tende a tenerti in segreto, non ti vuole esporre alla vita sociale, non vuole assolutamente che tu sia conosciuta e riconosciuta. Beh, se non vuoi finire male, seguimi qui e sugli altri social.